Noi dopo la riflessione che abbiamo fatto insieme alle altre organizzazioni sindacali dei pensionati e anche le nostre confederazioni abbiamo ora all'inizio dell'estate avanzato unitariamente una proposta alla regione toscana e segnatamente per tutta la parte che riguarda le campagne vaccinali rivolte agli anziani abbiamo chiesto di passare a una cosiddetta fase attiva. E' partita la campagna di vaccinazione anti-influenzale della regione toscana che come ogni anno ha l'obiettivo di vaccinare gratuitamente il maggior numero possibile di over 65 le persone appartenenti alle categorie a rischio e gli operatori della sanità. Nella passata stagione la copertura ha appena superato il 55% e si sono registrati 63 casi gravi e ben 15 decessi. I dati ci dicono che quando la copertura è stata più alta, intorno al 70%, le morti sono molto calate o addirittura si sono azzerate. L'obiettivo è dunque di aumentare la copertura vaccinale di anziani e soggetti a rischio proprio per questo i sindacati pensionati unitariamente hanno chiesto alla regione toscana di passare ad una fase di chiamata attiva per le vaccinazioni dedicate alle persone anziane. Su questo abbiamo aperto un confronto, abbiamo fatto un paio di incontri con la regione, c'è comunque una disponibilità a ragionare su questo e nello stesso tempo noi abbiamo dato la disponibilità proprio a una campagna anche di divulgazione perché vogliamo anche su questo tutelare i diritti delle persone che rappresentiamo. E allora proprio in questi giorni stiamo facendo partire verso tutti i territori un'informazione, un volantino da diffondere tra i nostri iscritti ma non solo per spiegare appunto quelli che sono i diritti che oggi una persona anziana ha. Il sindacato da Tempo è impegnato in campagna di informazione sull'invecchiamento attivo. L'aspettativa di vita aumenta ma, sottolinea Calzolari, non aumenta l'aspettativa di vita in salute. Anche per questo noi chiediamo e informiamo alla nostra gente perché occorre utilizzare tutti gli strumenti per tutelare la nostra salute. E da questo punto di vista la vaccinazione è uno strumento per cui già da questi giorni si può andare dal proprio medico e chiedergli la vaccinazione anti-influenzale. Gratuite per determinate fasce di età e per chi è affetto da particolari patologie sono anche le vaccinazioni che proteggono da polmonite virale e fuoco di Sant'Antonio. L'obiettivo complessivo è insomma quello di invecchiare in salute. E da questo punto di vista noi rivendichiamo che la popolazione anziana è e può essere ancora di più una risorsa per l'insieme del sistema paese da questo punto di vista. Dal punto di vista sociale gli anziani sappiamo che sono un pezzo dello stato sociale. E da questo punto di vista però per esercitare anche questo ruolo dobbiamo rimanere in salute. Abbiamo degli strumenti, abbiamo fatto battaglie per conquistarli, cerchiamo di utilizzarli. Ecco io invito tutti a partire da oggi ad andare a vaccinarsi.